via no che come? che cosa dice? ci fermiamo ci fermiamo piedi a terra controlliamo su un po' da qui potete fare 4 giri ok? e poi danremo con l'incitazione il primo posto il numero 2 il campone il numero 2 vediamo anche il legione la peruta Raffaele concludere anche lui la famiglia di questa prima gara marcotina il primo anno esordienti invitiamo i primi 7 classificati di portarsi al controllo 43 40 59 19 73 20 primi 7 30 si devono portare alle 9 60 26 20 non la vacuna no no non, c'è una c'è una ma di e di il che c'è noi qui mi viene ah ok adesso io vedo le vi vedi Siamo via ragazzi Siamo via ragazzi Siamo via ragazzi Categoria esordienti, secondo anno, 32esimo trofeo, il Croagli Chiarino organizzato dalla società ciclistica Recanati, sotto l'occhio vigile anche del presidente regionale Siamo via ragazzi